buongiorno oggi ci troviamo a guanzate in località cinfo una zona estremamente tranquilla e verde questa ottima soluzione immobiliare è libera sui quattro lati l'immobile è disposto su due livelli al piano primo abbiamo la zona giorno al secondo piano abbiamo la zona notte buona visione somebody told you you'd never find yourself a love and now you're bitter so you cut off your hair and some of your friends you're losing another another again oh wouldn't you know you're feeling broke down or you'll find out in time so don't you lose yourself when you're looking for your lover se vi è piaciuta questa soluzione immobiliare contattatemi